Ciao a tutti, Anna Maria Taigi, le profezie che devono ancora realizzarsi. Tra queste ce n'è una, il Papa sarà costretto a lasciare Roma. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, chi era Anna Maria Taigi? Diciamo, è una mistica, nata nel 1769 e morta nel 1837, oggi è beata, che da una sera del 1791 fino alla sua morte ha avuto un dono, il cosiddetto dono del sole, cioè la capacità di chiaroveggenza, di veggenza. E, diciamo, questo dono del sole era una luce che vedeva una distanza di 12 piedi, diciamo, e tre piedi sopra la sua testa. E questa visione durò 47 anni. E da questa luce, diciamo così, venivano le rivelazioni. E Anna Maria Taigi descrisse i luoghi che non aveva mai visto, parlò di eventi che sarebbero accaduti, personaggi importanti, sia della sua epoca sia di epoca successiva. E tutti quegli eventi che lei ha descritto, quelli che sono già, diciamo, passati a livello temporale, e si sono verificati. Ad esempio, dalla sconfitta dell'esercito di Napoleone in Russia alla morte di quest'ultimo. Poi raccontò della guerra in Grecia, della rivoluzione del 1830 a Parigi, della morte di molti regnanti e ancora delle catastrofi naturali. E del pontificato, ad esempio, di Papa Pio IX. Però vi sono ancora delle profezie che tendono a realizzarsi. E vediamone alcune. Una è questa. Dio manderà due castighi. Uno sarà sotto forma di guerra e rivoluzioni altri mali. Avrà origine sulla terra. Verrà sopra la terra l'oscurità immensa, durerà tre giorni e tre notti. Nulla sarà visibile e l'aria sarà nociva e pestilenziale e recherà danno. Sebbene non esclusivamente ai nemici della religione. Durante questi tre giorni la luce artificiale sarà impossibile. Arderanno soltanto le candele benedette. Durante tali giorni di sgomento i fedeli dovranno rimanere nelle loro case e recitare il rosario e chiedere misericordia a Dio. Tutti i nemici della Chiesa, visibili e sconosciuti, periranno sulla terra durante questa oscurità universale. Eccettuati soltanto quei pochi che si convertiranno. L'aria sarà infestata da demoni che appariranno sotto ogni forma di specie orribile. La religione verrà perseguitata e i preti massacrati. Le chiese verranno chiuse, ma solo per poco tempo. Il Santo Padre sarà obbligato a lasciare Roma. La Francia precipiterà in una spaventosa anarchia. I francesi avranno una disperata guerra civile nel corso della quale anche i vecchi prenderanno le armi. I partiti politici, avendo esaurito il loro sangue e la loro rabbia, senza essere stati capaci di arrivare ad alcuna soluzione soddisfacente, si accorderanno come ultima risorsa per fare ricorso alla Santa Sede. La faccia della terra sarà rinnovata. Allora il Papa invierà in Francia un legato speciale, a seguito delle informazioni ricevute. Sua santità in persona nominerà un re cristiano per il governo della Francia. Dopo i tre giorni di buio, San Pietro e San Paolo designeranno un nuovo Papa. Allora il cristianesimo si diffonderà in tutto il mondo. Ed egli è il santo pontefice scelto da Dio per resistere alla bufera. Alla fine egli avrà il dono dei miracoli e il suo nome sarà lodato su tutta la terra. Internazioni ritorneranno nella chiesa e la faccia della terra sarà rinnovata. La Russia, l'Inghilterra e la Cina entreranno nella chiesa. Ecco, queste sono le profezie che devono ancora avverarsi di questa mistica. Vediamo cosa succederà. Molte persone hanno questi doni. Poi è ovvio che, però, è interessante, insomma, prendere atto anche di queste situazioni. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi. Iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti. Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione.